Ragazzi buonasera, velocissimamente, ieri abbiamo visto come era il rosso, oggi stiamo vedendo il bianco, ortaccio bianco 2016, eccolo qua, grazie alle prodigissime tecniche della fotografia e della digitalizzazione, vi possiamo parlare di questo bianco macerato anche sempre del lago di Bolsena, grazie, siamo di fronte a una bellissima derivazione dei prodotti del nostro amato Lazio, sotto Viterbo, questo è il colore, se riuscite a vedere, non è un giallo taglierino, ma non è neanche oleoso o troppo denso, è un bianco a fermentazione spontanea, grammi vino, riguardiamo la bottiglia che ha tanto tanto grina, ortaccio bianco, adesso che vi abbiamo parlato e visto tutte e due possiamo tranquillamente dirvi che stiamo parlando di bottiglie che si dovrebbero pagare intorno ai 20 euro l'una, quindi anche vini probabilmente comprabili da chiunque, perché i grandi vini sono sempre e sempre e sempre, non alla portata di tutti mentalmente o economicamente, ci dovete arrivare, però un vino che può essere acquistato da tutti, predispone a conoscere un certo punto di modificazione, e i grandi vini naturali sono sempre e sempre, non all'acquistabile da tutti, belle cose, 1 minuto e 26 ragazzi, vi auguro una buona serata, a Zombie Wild, saluta!